Agna è il comune Veneto più rovente di questa estate africana. Il piccolo paese della bassa padovana ieri ha raggiunto i 39 gradi centigradi, 39,1 per la precisione. Le piogge, attese in tutta la provincia, non si sono ancora viste e le temperature rimangono ancora alte. La minima più bassa del Veneto invece si è registrata nella notte a Galzignano Terme, che solitamente è il paese che registra invece le temperature più alte d'estate. Secondo le previsioni di Arpav, però le precipitazioni sono attese nell'arco della Pedemontana per le prossime ore e dovrebbero portare un po' di refrigerio anche nella nostra provincia.